Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita, l'episodio numero 1000. Dopo 9 anni dall'apertura di questo canale, dopo 10 anni dal mio primo video su YouTube, su Minecraft, finalmente siamo qui con un video davvero speciale, un video lungo sicuramente, in cui andremo a ripercorrere tutta la storia di Minecraft Ita, mondo per mondo. E ormai da un bel po' di tempo ho cominciato a ragionare su cosa portarvi per il millesimo episodio e non c'era nessuna costruzione, nessuna avventura che potesse sovrastare mille episodi nel corso di così tanti anni, l'evoluzione che ha avuto Minecraft, l'evoluzione che ho avuto io come persona, l'evoluzione che avete avuto voi come persone che guardate me, il mio canale, i miei contenuti. Sono sicuro che qua sotto nei commenti molti di voi potranno scrivere in quale episodio di Minecraft hanno iniziato a seguirmi o mi hanno conosciuto. Quindi per cui l'unico vero modo per festeggiare questo traguardo è ripercorrere insieme tutta la storia di Minecraft Ita, per l'appunto, mondo per mondo. Prima di lanciarci Minecraft però devo dirvi un altro paio di cose, perché ho lavorato ad altri piccoli progettini insieme a questo super episodio davvero lungo. La mia prima idea è stata di realizzare qualcosa di digitale, per restare per l'appunto nel mondo di Minecraft, dei videogiochi, dell'informatica, ed ho subito pensato agli NFT che sono un po' la moda del momento, però dietro gli NFT c'è la criptovaluta, c'è la blockchain, i coin, i token, i smart contracts, c'è tutto un mondo, tutta una realtà che mi rendo conto è complicata. Quindi farò un video in futuro, nei prossimi giorni se riesco, in cui spiego meglio tutta questa realtà o perlomeno quello che ho capito io. Per ora vi basta di sapere che insieme al mio team di grafici abbiamo realizzato sette animazioni che sono state rese uniche per l'appunto tramite blockchain, quindi sono diventati degli NFT, li trovate sul mio profilo Rarible che trovate in descrizione, non sono in vendita, sono fatti per essere lì. Poi se uno proprio vuole, se sai di cosa sto parlando, se sai quello che stai facendo, allora puoi andare a fare un'offerta, però come vi dicevo non ho messo un prezzo fisso, perché mi rendo conto è che una tecnologia che ancora in Italia è acerba, nel senso che l'opinione pubblica su queste cose ancora non c'è neanche, perché non si sa di cosa si sta parlando. Però credo in questa tecnologia, so che nel futuro avrà un ruolo importante nella quotidianità di tutti e quindi volevo mandare questo messaggio in qualche modo creando questi sette NFT che per l'appunto trovate in descrizione. Per incentivare a dare un'occhiata a questi NFT, a queste animazioni, ho fatto sì che chi diventa possessore di uno di questi sette NFT, che sono solo sette, hanno un token unico, potrà scaricare i 5 mondi di Minecraft Ita. Ovviamente voglio dare la possibilità a chiunque ne abbia voglia di visitare i mondi di Minecraft Ita, quindi voglio ringraziare Emerald e il suo team che mi hanno aiutato a setupare questo server evento che sarà disponibile fino a domenica sera, in cui potete entrare e visitare tutti i mondi di Minecraft come ora faremo insieme in questo video. Trovate il link anche di questo in descrizione. Ma non è finita qui, prima di lanciarci in game voglio raccontarvi di un altro progetto che ho sviluppato negli ultimi due mesi e si tratta di un collezionabile, si tratta di un oggetto che racchiuda questo millesimo episodio, questo traguardo, ma non solo, anche proprio il percorso dei mille episodi, il cambiamento che c'è nella percezione di una persona come me che ha iniziato a giocare a Minecraft a 13 anni e ora ne ha 24, un oggetto che rappresenti come Minecraft insieme a YouTube mi ha cambiato la vita e ne ho voluti fare mille, mille, uno per ogni episodio di Minecraft Ita, si chiama Nuovo Concetto di Esplosione e si tratta di una scultura in legno, in abete massello per la precisione, ed è la mia reinterpretazione di un creeper. L'idea nasce da un regalo che uno di voi mi ha fatto a una fiera tantissimi anni fa, che tuttora tengo in camera mia, e se l'ho chiamato Nuovo Concetto di Esplosione è proprio perché Minecraft, oltre ad avermi cambiato la vita, mi ha anche impregnato una paura ossessiva dei creeper e ogni volta che apro Minecraft ho paura che qualcosa esploda. Detto questo, è anche uno degli elementi più caratteristici di Minecraft. Avete massello, anche la confezione è tutta fatta in legno, all'interno trovate anche il certificato di autenticità, incredibile ma vero, questo è il certificato all'interno per l'appunto numero e firma. Tutti i creeper sono numerati. Se siete dei fan accaniti di questa serie, volete un oggettino del genere in casa vostra, trovate il link in descrizione. Ma detto questo, signori, allacciate le cinture, perché ora entriamo in Minecraft. Che dire, intanto già il fatto di poter visitare tutti questi mondi, il fatto di averli ancora, mi sembra una cosa incredibile. Infatti quando sono andato a cercare, ormai già un mesetto e mezzo fa, i mondi, e mi sono reso conto che li ho tutti, non sono magari aggiornati all'ultimo episodio disponibile di quella season, però già il fatto di averli tutti, mi ha riempito di felicità, perché bene o male questi cinque mondi di Minecraft, mi hanno accompagnato nel corso degli ultimi nove anni, nove, quasi dieci in realtà, diciamo dieci, perché c'è anche il primo canale, non so che se lo ricorda, diciamo che sono dei mondi che mi hanno accompagnato in questi anni, ci hanno accompagnato, perché ci sono tantissime persone che mi seguono davvero da tantissimi anni, e lo so che suona un po' cliché sicuramente, ma non mi stancherò mai di dirlo, volevo ringraziare chi dopo tanti anni, ma anche se mi seguite ieri, se sei qui per condividere questo momento insieme, che sia su Rubo Staken in cui giochiamo insieme, che sia su questo canale in cui spaveremo idee, esperienze, cose nuove, mi fa davvero piacere, e volevo ringraziarti. Minecraft Ita su questo canale è iniziato con il World Tour, il primo episodio è il World Tour del mio mondo di Minecraft che avevo, che è la season 1, in cui ora entreremo, e vediamo un attimino che cosa ci presenta, io non so cosa mi ricorderò, cosa non mi ricorderò, poi in editing sicuramente magari aggiungerò qualcosa, però damn, già iniziamo alla grande signori, già iniziamo alla grande, e c'è anche un piccolissimo easter egg di cui mi sono appena reso conto, allora questo è il mio primo magazzino, questo è il primo magazzino in un mio mondo di Minecraft, anche se questo non è il mio primo mondo in assoluto, è il primo mondo che ho, diciamo, preso con cura dal punto di vista di Minecraft, questa è la mia casettina, il mondo non è super complicato, anzi mi sono reso conto che comunque i miei mondi sono sempre stati sviluppati abbastanza cose piccoline, a parte qualche fan particolare, ma più andiamo avanti nelle season, più ho cercato di espandere il mondo, e tutto insomma ciò che ne deriva, però c'è sempre stato un elemento tipico, della mia serie di Minecraftita, che Minecraftita, non è una serie di Minecraft, o perlomeno non è solo una serie di Minecraft, chissà questa dove porta, qui raga dove è esplosso il creeper, raga mi sto sbloccando di quei ricordi che vi giuro, se non mi metto a piangere in sto video è già un miracolo, comunque, cacchio, mamma mia raga, e non so da quanti anni è che non entravo in questo mondo, damn, la mia serie Minecraft, è sempre stato un podcast, perché io bene o male, io costruivo, sì, facevo le mie cose in Minecraft, ma vi ho sempre raccontato poi i cazzi miei, quindi è sempre stato un modo per condividermi, passare il tempo insieme, insomma, farci compagnia a vicenda, mettiamola così, che bello, che bello essere di nuovo nel mio primo mondo di Minecraft di questo canale, wow, allora, ragazzi, non perdiamoci troppo nell'emotività, andiamo a vedere effettivamente cosa c'è all'interno di questo mondo, se non nelle ceste, ci sono alcune robe dentro le ceste? Livestream 001? Che cos'è questa roba? Diario Livestream giorno 0... Oddio, cosa, cosa è? Diario Livestream giorno 001, perché per chi non lo sapesse, io nel 2000 e, cos'era, 13, facevo le live su Twitch, facevo le live su Twitch in 480p, perché la mia connessione è quello permetteva, vediamo cosa, vediamo cosa ho scritto, tramite un bug del nether, il mondo non si è generato, e sono caduto nel vuoto, ho perso tutto il negoziamento, le mie scorte di diamanti scarseggiano, quanto che drammatico, devo trovare delle risorse e presto, ho visto un paio di creeper che girano intorno a casa mia nell'ultime serie, si sono accorti che non ho difese, Oh mio Dio, cos'è? Un romanzo? Cioè, no, però, allora sono curioso, 0... Episodio 94, Minecraftita, episodio 94, ho terminato i lavori nel nether, ho qualche progetto da svolgere nell'overworld, obiettivi futuri per il nether, trover una fortezza, blade spawner, creare un grinder con il 2, ok, un grinder poi, grinder che cos'è? Vabbè, lasciamo stare, Signori, cioè, di cosa stiamo parlando? Nomi di gatti, drogatto, sfigatto, autosgatto, sottopagatto, e indovinate un po', sfigatto è quello che poi è diventato storico in questa serie, ma raga, mi sto... sto già... mamma mia, basta solo pensare al fatto di quanto Minecraft è cambiato nel corso degli anni, cioè la versione che era qui nel 2012-13 è cambiata completamente ora a Minecraft, proprio come realtà, ci sono ancora tutte le cose dentro, incredibile che io sono riuscito a prendere un mondo di nove anni fa e a convertirlo senza problemi, cheat, ora guarda come succede qualcosa sicuro, cuociamo anche della... della raw beef, dove ho le fornaci, scusa, non ho delle fornaci, scendiamo qua sotto, ah, aspetta, qua dove si andava, in caverna? Qua, uh, le fornaci automatiche, che figata, che il tipo iRook che aveva una tipo appena inserito, passi e ti si aprono le fornaci, che se non sbaglio sono anche automatiche, o sbaglio, non sono automatiche, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita, che cosa vuoi che ti dica? Sento, non so cosa sta succedendo, ah, si è aperta la trapdoor per indicarmi che sta ancora... non me ne ricordo queste cose ragazzi, però facciamo un po' di cibo che ci serve, allora, qui, premi per carburante, aspetta, che è successo? oh, oh, che è successo? sento, sento dei pistoni, qui, qui c'è il cestino con la lava, ok, ma il carburante da dove arriva, scusatemi, non mi ricordo minimamente come funziona sta roba, qui, c'è un villager, no, 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 eccala, otto anni dopo vengo a fare i danni, ho appena liberato un villager, allora, qui c'è la struttura per prendere il carburante, però non capisco dov'è che arriva, allora, qua ci sono dei pistoni, non capisco dove... ho perso un villager, signori, questa è l'unica cosa che posso dirvi in questo momento, ho perso un villager, ah, questo è per rilasciare, questo è il dispenser con dentro il carbone, eh, ma dovrebbe cadere dal cielo quindi, o sbaglio? ci sta anche ragazzi che alcuni meccanismi di 1.16.5 semplicemente non funzionino, se io faccio così dovrebbe aprirsi, ma non è caduto, figo, ma non è caduto il carburante, fra, ok, abbiamo tutto il cibo del mondo, signori, possiamo andare ad esplorare, di qua? qua dove c'era la scena famosissima dell'enderman, chi se la ricorda? mamma mia, i primi urletti su minecraft, ma quanto roba c'è qui, ma chi se la ricordava? la mia prima farm, questo è tipo l'episodio numero 2, si scende, non so, non ho la più minima idea di cosa ci sia qua dentro, signori, una piccola galleria di vetro, ok, che mi porta vetro, 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 dove sto andando di preciso? netherend, mamma mia, mamma mia signori, che cosa sta succedendo? ah, la mini lobby con tutto, ma che carino, ci sta un botto raga, cioè, nove anni fa, non mi ricordo neanche come ero fatto, nove anni fa, signori, però ci sta che ci sia qualcosa di segreto, e non me lo ricordo neanche, quantità di ricordi che mi si stanno sbloccando, che neanche, questo? questo che cos'è? tra l'altro questo mondo, signori, l'ho dovuto cambiare, non per cambio di versioni o altro, si è glicciato, infatti questo è un salvataggio precedente all'ultimo episodio disponibile, è comunque già bello avanti, come vedete ci sono tante cose, ma c'è stato un problema, si è glicciato il mondo, e mi è scomparso tutto un chunk del magazzino, che insomma era un bel danno, era davvero un bel danno, qua dove si va, scusate, c'è della neve, ci sono mineshaft, questo va bene, eh no signor creeper, cioè ho capito che tu mi hai aspettato nove anni per esplodermi in faccia, però qua mi sembra eccessivo, sento tanto i rumori, non mi piace, torniamo a casa, torniamo su, torniamo su, andiamo a vedere com'è la situazione all'esterno, devo dormire? È notte, tra l'altro qui c'è il gatto, non mi ricordo se era direttura nella terza, ma scusa, io dopo otto anni, nove anni vengo a liberarti, e tu mi fotti il letto, ma non hai capito un cazzo, ma vattene a fanculo, signor villager, non ho capito, scusami, ma che cazzo? Io boh, davvero, e qui la fan di meloni, che basta fare così, e ora abbiamo un botto di cibo, fantastico, strova del villager mi ha ucciso, ve lo giuro, allora, ecco siamo all'esterno, cosa abbiamo qui? Tanto bellissimo design, questo qui, potrei anche replicarlo, perché mi piace come texture, fonte d'acqua infinita, ah questa è la farm di grano multilivello, ma come funzionava? E chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda, questa roba raga? C'è un botto di, ah potrebbe funzionare con dell'acqua, semplicemente, è un design spaziale, qua ce l'ha scritto lollo, ho appena rovinato tutto, che ficata, il polletto, questa è la farm di polli, incredibile, in ogni serie di minecraft, che ho mai fatto in vita mia, c'è una farm di polli, e funziona, abbiamo qui, uh la mega farm di, pecore, sembrerebbe, quello penso che sia, per i 50 episodi di minecraft, tipo una specie di monumentino, fatto di ossidiana, ah è vero, avevo fatto tipo ossidiana, coperto di pietra, poi l'ho fatto esplodere, ma signori, ma le opere d'arte, già dieci anni fa le facevo, solo che, erano un po' così, farm di pecorine, ci sono ancora tutte, non sono colorate però, vabbè, forse non le avevo colorate, qui c'è una piccola cosa, non finita, sembra giusto, andiamo a vedere, quello mi sa che è un mob grinder, farm di alberi, farm di alberi, uh che mi porta a dove, un'altra zona sotterranea, ma che cos'è sta roba, ah le farm di alberi gigante, cioè gigante no, però che carino, raga vi giuro che, mi sta pulsando il cervello, dalla quantità di ricordi, che mi sto sbloccando, cioè dovete considerare che mille episodi sono davvero tanti, e io ho passato ore e ore, non solo a giocare, perché un giocatore esperto rimanca potrebbe dirmi, sì vabbè ma non ci vuole tanto per fare queste cose, e avete ragione, ma comunque ho impiegato davvero tante ore, se non tanto a giocare, a giocare e a produrre contenuti, a registrare, a invitare, a caricare, cioè stiamo parlando davvero di, quasi della mia vita, in qualche modo, perché vabbè come vi dicevo, minecraft ha cambiato, la mia vita, ma penso quella di molte persone, che comunque mi seguono, o che giocano a questo gioco, che è tuttora il gioco più giocato al mondo, per farvi capire il livello di impatto, che ha, sulla community, un mob grinder, che se funzionasse ancora, sarebbe epico, mi piace questo design dell'acqua ai lati, designer top, andiamo a vedere un attimino, nelle vicinanze, comunque ci sono diverse cose, la casettina dell'enderpearl, questo, cosa c'è qua dentro, uh, ah, questo è il magazzino della cobblestone, perché una certa, ero pieno di cobblestone, ho detto, ma sai cosa, metto tutta cobblestone dappertutto, qui si scende, e ci sono, ma che carino, che carino, si mancano un po' di quadri, mancano un po' di abbellimenti, magari un po' di fogliame, ma mi sa che il fogliame, non si poteva neanche mettere, in questa versione, fungo gigante, qua c'è il porticello, con le barchette, ma che bello, questo è il tanga, si, che è in cima dalla torre, andiamo in cima alla torre, e me lo ricordo, mamma mia raga, commento più quotato, sotto questo video, scusate, ma mi è entrato un minecraftita nell'occhio, e proverò a scriverlo io, per primo, qui c'è la baitina, la baita della, diciamo per la zona invernale, perché lì c'era un po' di neve, ho detto, ma figa un po' di neve, e infatti, e bene o male, mi sa che, in qualche modo possiamo andare nel nether, non so dov'è il portale, non me lo ricordo, però nel nether sicuramente si possiamo andare, fornaci dappertutto, questo era tipo un bar, dovrebbe essere, potrebbe essere tipo un bar, sì, questo, questa è tipo una farm di qualche tipo, oh, chiudiamo, se no il golem se ne scappa, aspetta, si scende, mi ricordo che ci sono cose, ma non mi ricordo cosa, una mucca, delle mucche, abbo, non ne ho idea, ah, avevo messo le mucche sotto terra, perché mi dava fastidio il rumore, può essere, può essere che sia questo il caso, signori, incredibile, c'ho i goosebumps ragazzi, c'ho la pelle d'oca, sarà che fa un po' freddino oggi a Milano, mi sa che è anche un po' il mood, albero geneticamente modificato, pay attention, perché geneticamente modificato, ah, perché le foglie sia verdi normali, che verdi di pino, fammi dei biscotti, signori, i biscotti hanno sempre accompagnato, tutto, in minecraft it, è incredibile, come bene o male, vi spiego un attimino la storia dei biscotti, visto che c'è anche uno degli nft, quando giocavo in questo mondo, nella mia descrizione, c'era scritto, iscriviti, abbiamo i biscotti, questo era il claim, e poi è diventato, se ti iscriviti a un biscotto, o del genere, e poi nella terza season, no, nella quarta season, ho effettivamente, nel corso di diversi mesi, perché ci ho messo un po', ci ho messo un po', l'ho fatto anche in live, tra l'altro, ho craftato un biscotto, per ogni iscritto al mio canale, all'epoca ne avevo due, ora dovrei fare quasi tre milioni di biscotti, insomma, direi che non è il caso, oppure bisogna farlo, ripartenendo dai due milioni, quindi dovrei fare un milione in più, vediamo dove ci porta questo minecraft, questa rotaia, però prima volevo provare a salire là in cima, scusa, ma io come, come, non ho capito, come cacchio, qua c'è un bottone, aspetta, magari c'è un bottone segreto, eh, raga andiamo, non so che cos'è, ma andiamo, non mi fa andare, vabbè, a magli estremi, estremi rimedi, cosa c'è qua sotto, una strada nascosta, e dove mi porta questa mo', con il ghiaccio sotto gli slab, così si corre più veloci, raga spaziale, ed ecco il portale del nether, che è leggermente bugato, forse questo è per il cambio versione, ok, questo cosa fa? Chiude la porta? Allora andiamo nel nether, cerchiamo di non morire, potrebbe essere già una bella cosa, cercare di non morire, sta caricando, ahhh, ok signori, questo potrebbe essere un problemino, potrebbe essere un problemino, perché come vedete ci sono dei funghi, e i funghi non c'erano, assolutamente, quando ho iniziato a giocare io a minecraft, questo è un aggiornamento super recente, però come vedete qui ci sono, allora, forse mi ha portato in un portale diverso, dal mio, proviamo a scendere, ho le enderpearl, mi butto su questo ponte qui, perché mi ricordo avevo fatto qualcosa del genere, proviamo ad andare lì, questo è il tunnel, ok, questo tunnel c'ha dei piglin, io non ho dell'oro con me, però questa è la mia base, o sbaglio, qui c'è la rotaia, ok, eh, purtroppo è tutto mezzo distrutto signori, questo era il mio portale, è rimasto solo un blocco, al posto del mio portale, va bene, allora stiamo attenti ai pigmen, non voglio morire, se possibile, anzi, ti dirò di più, proviamo a risalire dov'ero, così torniamo indietro, purtroppo, il nether signori, mi sa che diventerà difficile da esplodare, magari con le prossime stagioni meno, meno di complicato, ma con questo che è così vecchio, il nether è cambiato talmente tanto, che, che non saprei neanche, questo probabilmente mi porta nel land, sai cosa ti dico, proviamo ad andare nel land signori, allora se non sbaglio, questo mi porta al land, castello di fa, il castello di fappenstein, che cos'è il castello, cosa c'è qui, niente, il castello di fappenstein, oddio, se mi sono, questo, questo vuol dire sbloccare un ricordo, ti prego dimmi che funziona ancora tutto, avevo creato un castello, fantastico signori, ma di che stiamo parlando, oh, che è successo, si è rotto, no raga, ho rotto il portale, oh merda, poi non torno più indietro qui, è greve, è greve la situa, raga, il castello di fa, fappenstein, con la faccetta, in questo episodio, raccontavo una storia, di qualcosa che mi era successo al liceo, in classe, con il mio professore di chimica, tipo, oddio raga, cioè, ora sto pensando al liceo, è incredibile come questi mondi, racchiudano, la mia vita, perché io in questi episodi, poi, mentre, mentre costruivo, mentre facevo i cazzi, cioè, raccontavo i cazzi miei, capito? Questa per difendersi dei mob, il castello di fa, fappenstein, poi, fapp, fapp vuol dire, è un gergo di internet, per intendere, masturbarsi, ok, e all'epoca, c'è tutta sta roba del fa, fa, fapp, era appena nata, sta roba del fa, mettiamola così, e con vrent, e minca lo dicevamo, in continuazione, e per questo, questo è il castello di fappenstein, ok, siamo riusciti a tornare, che già è una cosa positiva, di qui, dove ci porta, c'è altra cobblestone, porca vacca, se questo video sarà lungo, diventa minecraftita mille, il film, davvero, cosa c'è qui, assolutamente nulla, sembrerebbe, ottimo, allora torniamo indietro, e land dove cacchio stava, beh, l'uovo di drago l'ho visto, quindi nel senso, ci siamo stati, c'era land, però non mi ricordo assolutamente, boh, ok, siamo arrivati in maniera un po' strana, riprendiamoci questo, prima che devi qualche piglin ad ucciderci, saremo un po', allora, devo ritornare a casa, in qualche modo, metto qui e provo a lanciare un enderpearl, dov'era, mi sa che era là sopra, ho del feather falling, sì, ma non è al massimo, proviamo, ad andare là sopra, vediamo se ce la facciamo, oddio, ok, proviamo ad entrare, non dovrebbe colpirmi, mi colpisce, mi colpisce, ok, ok, è entrato nel mio mondo, stiamo attenti, potrebbe essere pericoloso, che figata ragazzi, davvero, che figata, sta caricando il mondo, stiamo attenti, e il piglin non c'è più, vediamo la, oh, oddio, chiudi, è diventato un pigman, cosa è successo, l'ho colpito da piglin, è diventato pigman, e questi sono i bug, di avere un mondo vecchissimo, raga, questi sono proprio i bug, va bene, ma per uscire, devo andare da qui, speriamo non ci siano creeper, questo è il chunk, che mi si è auto eliminato, dopo un aggiornamento, a caso di minecraft, e, mi ha costretto a cambiare mondo, allora, l'ultimo passaggio, davvero, intanto controllare, dove porta questa rotaia, perché sono davvero curioso, dormiamo, non c'è più il villager, che ci ruba tutto, potrebbe essere la rotaia, che ci porta nel land, e sarebbe il passaggio finale, ora, come potete immaginare, non posso fare dei tour completi, di tutti i mondi, sarebbe davvero, diventerebbe una serie tv, neanche un film, allora, minecraft c'era, lì c'è la fornace, vediamo dove ci porta sta roba, sono curioso, ma ho anche paura, perché so che, potrebbe portarci in qualche zona, un po' così, oddio, ma è lungo come tunnel, e insomma, e vabbè, ma quanto dura, ora davvero, l'unica cosa che mi viene in mente, è che ci porti nel land, altrimenti non avrebbe senso, credo, cioè, dove mi porta un tunnel così lungo, a morire, ora c'è un buco e finisco nella lava, sarebbe stato molto intelligente la parte mia, per il me del futuro, ok, sì, ci porta nel land, signori, questa, questa è la nostra bellissima strong gold, o sbaglio, c'è un portale del nether, che non so dove mi porta, stiamo attenti a sti cosi, buttiamoci signori, qui dovremmo, oddio, per un secondo pensavo di essere finito nella lava, di end, no, non dimmi che mi fa spawnare l'ender dragon, ok, allora, questa era la mia base dell'end, un po' di struttina, di qua mi sa che si va, alla farm, mickey mouse, il famosissimo, esatto, di qua signori, si va alla mia farm, di enderman, che, funzionava alla grande, ora, se non sbaglio, lì in cima, c'era tipo un ender, c'era un endermite, c'era già l'endermite, oddio, sai che non lo so, forse l'ho raggiunta dopo, c'era forse un enderman, o c'era qualcosa dentro un minecart, che bloccava gli enderman, e no, che attirava gli end, non mi ricordo assolutamente come funzionava questo, questo tipo di farm, non so se funziona ancora, qui, ci ho fatto delle live, me lo ricordo, ho trovato anche dei bei, dei bei enchantments, e basta in realtà, mi sa che questo è tutto quello che è da offrire l'end, non ho fatto molte costruzioni qui, come vedete non c'era ancora il void, ecco questa è una cosa che hanno aggiunto dopo, quindi non c'era l'elita in questo mondo, nulla di tutto ciò, qui un paio di scalette, potevo anche mettercele, mortacci mia, questo, ah questa è la farm di enderman, diciamo manuale, e tu ti mettevi sotto, o sbaglio, ah per farli morire da soffocamento, ora mi ricordo, ecco me la disattivavo poi, ah si disattivava da solo, c'aveva il timer, signori io direi che questo è un buon punto, per interrompere il tour di minecraftita, la prima stagione, ci buttiamo in questo portale, che ci porterà direttamente, nella seconda stagione, o almeno spero, perché potrebbe essere tutto bugato, proviamo, eccoci qua, nel secondo mondo di minecraftita, questo è il mio magazzino, e a essere onesto, non mi ricordo neanche, beh non c'è il letto, quindi stavo per dire, non so se mi ricordo esattamente, ma capita spesso, nelle mie serie di minecraft, che io non abbia una casa, o che perlomeno io crei la casa, ma poi il letto lo metto sempre nel magazzino, perché mi è più comodo, mi è più comodo, non è che non mi ricordo molto, di questo secondo, di questa seconda stagione, noi dobbiamo uscire, andiamo a vedere un attimino, che cosa succede, lo spaccapietre, the beast, ok, i nostri strumenti, ora hanno dei nomi, vediamo un attimino, allora, il draghetto, la fontana, ok, ok, piano piano, mi sta tornando tutto in mente, l'isola, penso di aver capito, un attimino, dove siamo, ho appena visto, l'isola delle, delle mucche, dei funghi, delle mushrooms, non solo, penso di ricordarmi bene, e il letto dovrebbe essere qua dentro, anche se in teoria, questa dovrebbe essere, la casa, che non è una casa, ma è la mia farm di mucche, esatto, con tutta la lana fatta a mo' di cielo, così le mucche si trovano a loro agio, possono fare quello che vogliono, e come vi dicevo, nonostante io abbia una casa, che è tipo quella là in alto, quella è casa mia, ho deciso di mettere il letto qui, perché era più vicino al magazzino, quindi, insomma, fra, ma sta, ma sta piovendo, c'è il temporale, fammi dormire, ahhh, vabbè, la pioggia comunque fa parte, della nostra, ahhh, quotidianità su minecraft, ma sbaglio? Qua sotto c'era, se non sbaglio, tipo un passaggio segreto, di qualche tipo, se non erro, qui c'era tipo, ok, sembra un blocco di clay colorata, c'è un corridoio, ahhh, è il mob grinder, è il mob grinder, ok, mostrante, ha dato anche dei bellissimi golden boots, guarda, ti dirò, li metto i golden boots, ma che golden boots, ma dato, fai del full in 4 protection unbreaking, the god, anche qui come vedete, tanti polletti, sicuramente troveremo una farm di polli, poco ma sicuro, ma partiamo con calma, andiamo a vedere la casetta, la nostra bellissima casetta, che dovrebbe essere questa qua in cima, a cui posso accedere anche a questo tunnel sotterraneo, se non ricordo male, ecco, abbiamo visto ad esempio, questo è il primo tipo di elevator, di ascensore, che ho creato nella mia serie di minecraft ita, ehm, era un design che circolava, che utilizzava per la punta e manca, tu sali, clicchi e clicchi e clicchi, premi shift, e ti ritrovi in casa, ecco, questa è la mia casetta, qui c'è una mappina, questo non è stato aggiunto dopo con photoshop, semplicemente sono andato a disegnare con della lana, il mio vecchissimo logo, questo è il mio primissimo logo di youtube, sp che sta per surreal power, se lo piano superiore troviamo, beh, il lettino che non ho mai usato tipo, una piccola finestrella che ci dà una vista sull'iron farm, con ancora tutti i villager, incredibile, c'è un cavallo con l'armatura d'oro, è tipo l'antenato di franchino, o sbaglio, sta a diventare una notte, fantastico, prima che la notte, ehm, cada su di noi, vediamo, allora qui c'è un piccolo beacon, se non sbaglio, hanno aggiunto proprio i beacon, in questa versione, nella prima season, infatti, come vedete, non c'era il beacon, qua si scende, mi sa che si arriva alla nostra cavernina, se la memoria non mi inganna, abbiamo un ponte, decisamente troppo largo per quello che è, perché è piccolissimo, che ci porta, per l'appunto, alla farm di ferro, al nostro cavalluccio, che non ha un nome, se non ricordo male, infatti non ha un nome, ma lui è l'antenato di franchino, è franchino giallo, praticamente, ora sul canale in inglese, c'ho, c'ho franchino, che ha l'armatura di diamante, molto simpatico, molto bellino, tra l'altro, come colorazione, questo esemplare di cavallo, vediamo qui la farm di ferro, come procede, mi ricordo che non era, super efficiente, infatti, qui se non sbaglio, avevo anche fatto poi, successivamente, il bar, esatto, cioè il bar, il bar della spiaggia, fantastico, signori, fantastico, e questo l'ho fatto d'estate, dopo essere tornato, tipo, dalla solita settimanina, alle vacanze annuale, che facevo la piccolino, e mi ricordavo, ma cacchio, ma c'ho la spagetta, facciamo lo stabilimento balneare, figata, infatti qua ci sono i lettini, cioè, sempre molto, diciamo, concettuale, il draghetto, questo era il draghetto, che se non sbaglio, abbiamo fatto, non in onore di Game of Thrones, perché in onore di Game of Thrones, abbiamo fatto nella quarta, questo, non mi ricordo, se era anche questo, in onore di Game of Thrones, perché comunque, anche Game of Thrones, è durato un bel po', ecco, vedete, lì in mezzo, ci ho messo il mio uovo di drago, quindi questo è il drago, che tiene al sicuro il suo ovetto, la testa deficita un po', ma le ali erano molto carine, e, nulla da dire, qua abbiamo un letto, direi dormiamo a questo punto, siamo qui, perché no, ottimo, qua abbiamo la zona farm, con le zucchette, le carodine, le patadine, un po' di grano, ah, se non sbaglio, questo era il mio progetto di creare, tipo, un sistema di metropolitane, non so se qui c'era qualche passaggio segreto, forse di qua no, ma di qua sì, da qualche parte, ragazzi, in qualche mondo, ho fatto dei passaggi segreti con i quadri, ma non mi ricordo dove, e come vedete qua, sono tutti, tutti vicoli ciechi, perché non, nell'atto pratico, avevo solo questo qui, che immagino, mi porti, come nella prima season, al, al land, quindi ci andiamo dopo, quindi è il portale che ci porta nel nether, ma prima di andare nel nether, voglio andare verso l'isoletta, delle mushrooms, che è poi diventata in realtà, l'isola dei villagers, se non ricordo male, vedete, c'ha tutto un contorno, un muro, tutto intorno, che si va per proteggere, per appunto i villagers, è pieno di torce, per evitare che esponi, qualsiasi tipo di mob, ci sono anche i golem, guarda, porta di ferro, giusto per essere al sicuro, e all'interno si trova il nostro mini villaggetto, c'è un villaggetto con i villager, che ora sono stati aggiornati, la nuova versione, quindi sicuramente non è lo stesso, lo stesso mood della seconda season, qui abbiamo, ah, questo era il mio breeder, cioè mio, design sempre trovato su internet, ovviamente, ma era un breeder, che praticamente, aveva un villager là in fondo, un villager là giù, in qualche modo, riuscivano a comunicare, ad accoppiarsi a distanza, e se mettevi, il bellissimo e simpaticissimo, minecart da questo lato, ti prendeva il bambino, ah, guarda c'è il bambinetto, appena cresce, viene lì, cresce, vedi che cos'è, se non ti piace, lo uccidi, con il blocco, sia una cosa un po' crudele, lo so, però funzionava, qui abbiamo un osservatorio, anche questo è un tema ricorrente, delle mie serie di minecraft, qui volevo metterci, una sottospecie di, non lo so, telescopio, solo che non ho mai capito, come costruire un telescopio, sai che non mi ricordo, perché non so, nell'altro pratico, che episodio, a che episodio, sono arrivato, con questo salvataggio, perché come dicevo, è già tanto essere riuscito, a recuperarli tutti, quindi non mi lamento, assolutamente, ciao amico Golem, come va qui, tutto bene? tutto bene, fantastico, andiamo avanti, allora, andiamo verso la nostra, torre dell'orologio, che più che una torre dell'orologio, mi sembra un faro, eh già, questo è un faro, anche se io qui, un porto non ce lo vedo, eccolo il porticello, ah me lo ricordo, perché questa è un'isola, vera e propria, capito? quindi è forse l'unica season, che si è sviluppata, interamente su un'isola, questo? che cos'è? ah, questo era per i ciuchini, per i cavalli, anche se come vedete, non so se sono despownati, o semplicemente sono morti, ci sta che io l'abbia uccisi, molto probabile, molto probabile, un burrone, fantastico, e devo dire che è anche molto strano, parlare in italiano, in Minecraft, signori, dopo ormai quattro mesi, che ho aperto il mio canale in inglese, in cui faccio gli episodi di Minecraft in inglese, ma aspetta, ma qui non c'era tipo il ponte, con i cavalli, potrebbe essere, potrei sbagliarmi, ma potrebbe essere un episodio, abbastanza antecedente, al vero sviluppo di questa serie, perché io, se la memoria che mi inganna, bellissimo qua il fiumiciatolo, artificiale, infatti, mentre il ponte non sarebbe servito a molto, se la memoria non mi inganna, da questo lato, io avevo, costruito dei cavalletti rampanti, dei cavallucci, non cavallucci, erano proprio dei cavalli rampanti, con un ponte lunghissimo, che mi collegava, alla terra ferma, perché proprio come vi dicevo, questa era un'isola, se non ricordo male, era proprio qui il ponte, o forse la terza season, chi se lo ricorda, io non di sicuro, dove cacchio era il buchetto, eh, mo chi se lo ricorda, ah, eccolo qua, ora qui, io mi ricordo, ci fosse la miniera, quindi dove andavo a prendere i miei materiali, però potrebbe anche essere benissimamente il caso, che qui ci fossero delle stanze extra, sì, qua c'era una farm di qualche tipo, c'era una farm di villager forse, ok, vediamo cosa c'è qui, no, niente, solo stanze vuote, ragazzi, la mia memoria mi sta, si sta risvegliando, e sono abbastanza sicuro che questo sia un salvataggio, molto, molto, molto antecedente al vero sviluppo della serie, ci siamo persi tantissimi, tantissimi sviluppi, ovviamente non sono persi, perché se uno si va a riguardare i mille episodi, che si torna qui sul canale, può riguardare tutto, allora che i mille episodi, non so voi, ma a me sembrano un po' tantini, a questo punto direi, passiamo dalla metro, e prima di prendere effettivamente la rotaia, andiamo a vedere cosa c'è nel nether, potrebbe essere una cosa interessante, però anche lì, con questo fattore dello sviluppo, potremmo esserci persi qualcosa, vediamo, ah, questa è la mia base del nether, ok, molto carina, abbiamo un villager che gira attorno, non si è mai capito perché, molto carina, con la clay, questa, che colore era? Ciano, no, non era ciano, questo è grey, qualche tipo di grey, fai vedere che colore è, posso prenderne uno, grazie, Cyan, ok, allora vedi che era qua dentro, oddio, dove mi porta sto tunnel? Mi ricordo che ho fatto questa strada tantissime volte, e di questo non mi porta a land, sono abbastanza sicuro? Proviamo a prendere questo portale, vediamo cosa succede, però se questo mi porta a land, dove mi porta la rotaia? il mistero si infittisce, signori, sono abbastanza sicuro che questo mi porti alla stronghold, ma potrei sbagliarmi, potrei sbagliarmi, perché magari ho usato questo portale, eccoci, siamo alla stronghold, quindi, torniamo indietro, perché non voglio subito buttarmi nel land, anche se sono abbastanza sicuro che, anche in questo caso, avremo una bellissima fan di enderman, che è tipo standard, cioè devi sempre farla in qualsiasi versione tu sia, perché altrimenti, davvero, non riesci a sviluppare bene il game, quanto corre quello? proviamo a salire, vediamo cosa c'è a sinistra a questo punto, può essere questa la prima season, la seconda in cui effettivamente abbiamo provato a sfruttare le meccaniche al di sopra della bedrock, quindi o una gold farm, o qualcosa del genere, che all'epoca per salire sopra la bedrock, era comunque più semplice di ora, poco ma sicuro, perché poi erano tutti bug relativamente nuovi, ok qua siamo sopra la bedrock signori, abbiamo una torrettina, vediamo se si riesce a capire cosa c'è all'esterno, ci sta che non ci sia nulla, io sono venuto qui solo per il gusto di esserci, molto probabile, anche se lì vedo dei blocchi, andiamo a vedere, ah abbiamo iniziato un progetto per riprodurre i biomi sopra la bedrock, buongiorno signor piglin, è contento dei miei golden booth, vedo che non mi attacca, e ancora qua non mi ricordo se poi ho proseguito questo progetto, semplicemente il salvataggio non è adeguato allo sviluppo, però proprio per tenere la reaction più spontanea possibile, non l'ho aperto i mondi, prima di registrare questo video, allora ci sta che qui mi porti semplicemente indietro, cioè mi porti di fuori, oh c'è un altro portale, attenzione abbiamo un altro portale, questo dove mi porta? se l'altro mi porta la stronghold, questo dove mi può portare questo? Siamo in un deserto? Ah è un villaggio? Forse, ah questo è stato il modo in cui ho recuperato i villager, ci sta, e allora a questo punto l'unica cosa che manca da fare, a questo livello di salvataggio della seconda stagione di minecraftita, è provare a prendere quella metropolitana, ho un minecart, non ho un minecart, posso craftarne uno, posso craftarne uno, craftiamone uno a questo punto direi, proviamo a prendere la metropolitana, è notte ma ce ne sbattiamo altamente, direi che possiamo sopravvivere, abbiamo una bella armatura, non è tutta di diamante, ma insomma, prendiamo questa metropolitana, non sembra essere lunghissima, ma potrei sbagliarmi di nuovo, vediamo dove arriviamo signori, attenzione c'è un angolo, magari è più lungo di quel che, ah scendiamo? Ok, siamo arrivati, che cos'è questo? Mineshaft? Cos'è? Cos'era questo? Lava bucket? Quello è un blocco di vetro? Che cos'è questo posto? Patate? Enchantment table? Un ascensore ad acqua? Ci sta che ci sia uno spawner di qualche tipo, qui nelle vicinanze, che cos'era? Allora, possiamo provare ad aspettare con un secondino, vedere se sale qualcuno, potrebbero essere scheletri, abbiamo una cesta di qualche tipo? No, non c'è nulla, se faccio così cosa succede? metterla, uh, sento degli scheletri, scheletri li sento ma non li sento salire, mmm, diciamo che, secondo me potrebbe esserci un piccolo problema di aggiornamento della versione, ups, torna indietro, dammi il minecraft, ok, a questo punto direi possiamo andare nel land, e spostarci direttamente nella terza stagione, io se non ricordo male, vorrei dire che la terza stagione è stata, una stagione molto importante, che ci è durata tanto, e sinceramente non mi ricordo, com'era il muto nella terza stagione, mi ricordo la quarta, perché è recente, ma la terza, ah, ok, ora mi sta tornando in mente, trampolino, trampolino c'è nella terza stagione ragazzi, buttiamoci nel portale signori, senza indugio, uh, uh, ok, anche qui mezzo scherra, per via della lava, ah, ok, allora, anche qui sulla mainland, diciamo che non avevo fatto molto, se non ricordo male, ma avevo fatto questo super tunnel, a prova di enderman, per evitare di essere ucciso, perché c'erano stati dei piccoli problemini, se non ricordo male, e abbiamo la super mega farm di enderman, perché abbiamo dei minecart, non vorrei morire se posso eh, che faccio, mi butto, che succede, mi butto raga, vediamo che succede, ok, ci sono le scalette, quindi fortunatamente non muoio, anche se non, vabbè, non mi ricordavo così l'ascensore, beh, vedo le particelle, ma ci sta che siamo semplicemente qua sopra, funziona alla grande raga, eh, ma che design era questo, devo riprodurlo nella season 5, ma guarda qui, the god, a questo sono curioso, voglio vedere come funziona, allora, voglio fare infilarmi dentro, per cercare di capire, andiamo a guardare verso l'alto, mmm, oddio, è larghissima, sicuramente non ci sono endermite, uh, guarda tanta gente, tutti one shot, guarda l'esperienza, uh, di lusso, potrebbe essere quella lì dei pistoni questa, sai, vediamo se da lontano vediamo dei pistoni, certo, a voi non interessa, però, ok, sì, ci sono i pistoni, ok, penso, penso di essermi ricordato, come è fatta questa farma, e allora a questo punto signori, io direi che senza indugio, possiamo tornare sulla mainland, qui, era più difficile ammazzare nel drago una volta, corregendomi se sbaglio, ma penso di sì, e allora, signori, buttiamoci, season 3, arriviamo, ora sì che ci divertiamo, signori, ora sì che ci divertiamo, benvenuti nella terza season di Minecraft, qui abbiamo fatto davvero tante tante cose, questa season, penso di ricordarmi correttamente, forse è quella più longeva a livello di episodi, questo è il magazzino, magazzino dove purtroppo ora non ci sono gli animali, ma ricordo che c'erano quale armature, i cannoni, questi cos'è che sparavano, chi se ricorda, frecce infuocate, vediamo se funziona, funziona ancora, funziona ancora, abbiamo i cannoni automatici però, incredibile, di difesa, non che funzionassero molto, che servissero, però è un bel pezzo di tecnologia, guardate quante cose ci sono a giro, cos'è quello, la testa del drago, mamma mia, la mongolfi, quante cose in questo mondo, quante cose in questo mondo, come dicevo, forse è la stagione più longeva, tantissime cose sono successe in questa season, abbiamo qui le quattro mascotte dei mates, fantastico, l'elicottero, il ponticello, questi raggi che vedete in giro sono, come si chiamano, i raggi del beacon, uno di ogni colore, andiamo a vedere cosa c'è in questo ponticello, tra l'altro notate che siamo super veloci, perché abbiamo il beacon con la velocità di livello 2, qua dentro la montagna, cosa ci troviamo, una struttura, ah questa è la fornaccia automatica, ma non solo, perché dall'altra parte ho fatto la fornaccia estrema, ancora più estrema, se non ricordo male, qui abbiamo la farm di pecore, anche questa molto molto cazzuta, utilizziamo un sistema di acqua, che ora come vedete non funziona più, quanta roba c'è in questo mondo signori, quanta roba c'è, sfigato, sbaglio lui a spettro, ghost, questo sì, sicuramente era un onore del nostro Game of Thrones preferito, questo non vorrei che fosse uno sfigato in onore di sfigato, ma è semplicemente una bellissima cuccia, no, questo non ricordo di sfigato, cacchio, sfigato era season 1, non me lo ricordavo neanche, uh, qua abbiamo l'elitra, come avete visto, con manning, guarda, ero proprio attrezzato bene, il pappagallino, che per trovarlo questo nella giungla, raga, quanto ci abbiamo messo, mamma mia, vi ricordo ragazzi, scrivetemi nei commenti in che season avete iniziato a seguire Minecraftita, perché sono 9 anni, 8, 9 anni, forse anche di più, considerando il primo canale, come vi dicevo prima, quindi, c'è quasi una generazione di differenza, il mood è quello, qui abbiamo la prima statuetta, che ho costruito a tema nether, con tutta la soulsend accanto, molto carina, molto carina, qui abbiamo che cos'è, oddio, qua si scende, che sono sti colori, sembra il logo Microsoft, scendiamo, oh, aia, ah, questa era la lobby underground, per costruire una nuova base, che poi non abbiamo mai finito, cos'è qua, questo è lo zoo, avevo fatto lo zoo, questo è lo zoo, ma, ma, allora, a parte che qui c'è Franchino Senior 2, abbiamo fatto tipo l'albero, ragazzi, qualcuno, sul subreddit, di Sury was taken, vi prego, fatemi l'albero genealogico di Franchino, come siamo arrivati a Franchino, questo Franchino, quello della season 5, mi ricordo, avevo fatto lo zoo, qui c'era il campo di zucche per Halloween, fantastico, guarda che bella sta zucca, proprio bella, e qui c'erano dentro tipo tutti, tutti gli animaletti, i cavallini, l'orso polare, questo per trovarlo un casino, i lupetti, i lama, qui ci sono i conigli, e nello zoo cos'era che c'era qui? Qualcosa che è morto sicuro, ora è notte, quindi andiamo a dormire, però prima di andare a dormire, ma che bella la statua fatta tutta di smeraldi, quanto ci abbiamo messo per fare, ora me lo ricordo, ma, mezzi in Minecraft, ma, porca vacca, ma è recentissimo, o stiamo io, raga, o stiamo invecchiando davvero velocemente, o a me sembra ieri di essere dentro a questo mondo, prendi le torcine, così almeno vediamo dove stiamo andando, questa è la super farm di grano, con la pokeball, la pokeball era per commemorare, per commemorare Pokemon Go, qui abbiamo un ponticello che ci porta di là, anche se di là non ci abbiamo mai fatto nulla, se non ricordo male, troviamo un letto, troviamo un letto prima che esponi qualche creeper e faccia danni, ecco per l'appunto, qui abbiamo la farm di meloni e zucche, automatica, semi-automatica, no anzi, sì semi-automatica, che dovevo comunque cliccare la levetta, questa è la farm di legno, se non sbaglio, giorno signor creeper, guardi ho un arco e non ho paura di usarlo, quindi è meglio per lei che stia la larga, qui tu mettevi l'alberello, guarda ho un alberello, possiamo farlo, vediamo come funziona, tu facevi così, non funziona più? ah non devo stare qui, rispamma, appena, ma funziona ancora, spaziale, e lo pushava qui, e poi quando arrivava in fondo, attivava questa serie, che bello quel portale, raga ma quanto è bello sto mondo, quanto è bello sto mondo, allora visto che notte approfittiamo, ne andiamo a dormire, ci infiliamo nella nostra casa, che non era una casa, è una reggia, guarda qua, con il bellissimo piccone frontale, che questo storico, che bella sta casa, con la mini farm, anche se l'abbiamo mai usata, tipo mai, era solo per flexare, insieme alla libreria, anche la libreria mai usata, era solo per flexare tutti i libri, un po' come nella vita reale, insomma, siamo lì, andiamo al piano di sopra, così possiamo dormire, il nostro doppio lettino, con la finestrella, la torre dell'orologio, fantastico signori, quanti ricordi, questa è forse, forse, forse dopo, se doveste fare una classifica, ok, delle stagioni di minecraft, io metterei forse la prima, al primo posto, ma perché è dove è iniziato tutto, al secondo metterei la terza season, la quarta, la seconda, e ora la quinta, la metto all'ultimo, solo perché l'abbiamo appena iniziata, però, è quella con più potenziale, perché è quella che stiamo facendo ora, però la terza season, forse è la seconda migliore, dopo la prima, se uno guarda oggettivamente, forse è la migliore, a livello di cose costruite, di posti in cui abbiamo, creato cose, cioè è proprio bella, ora, quella, questa cosa qui, con le due torri, se non sbaglio, è la casa degli iscritti, dove in live, perché comunque le live, ci hanno accompagnato, per tutti questi anni comunque, esatto, mettevo, non mi ricordo, se erano i sub, oppure i donator, non mi ricordo, però, vi faccio vedere, al volo, queste persone, perché, signori, dopo tanti anni, questa casa dei sub, testa della skin, Erika, ok, trampolino, è il ragazzo che mi ha suggerito, di fare il trampolino, grande, e me l'ha suggerito, se non sbaglio, ad un evento, era proprio di persona, mamma mia raga, mamma mia, che, insomma, insomma, ma quella è la mia skin, ma fantastico, fantastico, di qua dov'è che si va, di qua si scende dall'altro lato, sì, e dall'altro lato c'era, se non sbaglio, la farm di cobblestone, e la farm di ferro, mamma mia, mamma mia ragazzi, quanti ricordi, esatto, farm di ferro, anche questa non è mai stata super efficiente, sicuro non è mai stata efficiente, come quella che c'è ora, su Reward Staken, raga, nella season 5, c'è una farm di ferro che spacca i culi, questa invece è la farm di cobblestone, vediamo se funziona ancora, facciamo partire, questo timer, ok, dovrebbe generarsi, la TNT c'è, però non si genera la cobblestone, fermo, 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 no, no, non esplodere, oh, funziona, funziona, incredibile, il nostro cobblestone generator, lag da paura, anche questo, è un, sbloccare un ricordo, no, l'ho fatto ripartire, non volevo, scusa, 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 che carina è, tutta fatta con i, blocchi così carucci, bellissima, molto molto carina, guarda, ci starebbe forse prendere la season 5, e prendere degli elementi a destra e a sinistra, e rimetterli, e rimetterli proprio lì, questo è il cinema, fam di polli, credo, sì, esatto, fam di polli, questa è molto simile a quella che abbiamo ora, è un design immortale, questo praticamente, qua dentro che cosa c'è? c'è una freccia? cos'è sto posto? assolutamente vuoto, mi sa che era fatto per bellezza, ti direi di sì, il nostro fantomatico piccone, bellissimo, così semplice, ma così iconico, bello, la casa sull'albero, quanta roba c'è in questo mondo, è proprio bello questo mondo, e andiamo di qua, c'è la fam di cactus, che ignoriamo alla grande, lato dell'orologio, a cui purtroppo non si può accedere, perché se non sbaglio non c'era la porticella, è fatto, infatti non c'è la porta, però molto carina, le abbiamo portate nel nether, ma prima di andare nel nether, proviamo a infilarci, ma come si fa? si sale da qui? l'eleverto con gli slime block, vediamo se funziona ancora, in teoria salendo su quel coso lì, anzi salendo lì sopra, funziona ancora, credibile, e questo ora riscende, ma fantastico signori, abbiamo un faro, la nave dei vichinghi, quello è lo yacht di Favij, che bello, che bello, voglio provare a vedere, se riesco ad accedere, alla zona superiore, ora non mi ricordo neanche, come cacchio si entrava, perché non era da qui l'ingresso, era, forse era da questo lato, proviamo a fare il giro, trampolino, grande trampolino, proviamo a salire di qui, non mi ricordo dove era la salita, scusa, come salgo io dal trampolino, usiamo i razzi scusa, saremo in cima in cima, mongolfiera, bellissima la mongolfiera, è venuta davvero bene, allora sì, c'era questa struttura qui, ma sinceramente non mi ricordo, com'è che si sale, abbiamo il golem, di guardia, questo era tipo l'attico da Tony Stark, anche se di Tony Stark non c'aveva molto, ah qui abbiamo la mini oasi, la mini oasi del totem, quando siamo andati a fare la magione, mi ricordo che era tipo la prima live, che facevo su youtube, di minecraftita, stavamo andati a cercare la magione, tipo c'erano 30 mila persone, connesse, forse di più, forse 40, sai che non me lo ricordo, ma è stato un evento leggendario, quello della magione, Woodland Explorer Map, e infatti signori, questa è la magione, con il totem della non morte, l'Evoker, proprio bello questo mondo, un botto di ricordi, forse sì, è il mondo più completo, a livello di cose fatte, e così via, là in fondo, cos'è quello? Abbiamo le statue che sorreggono la montagna, e quello là in cima che cos'è? quello non me lo ricordo, quello non mi ricordo minimamente che cos'è, allora, prendiamo il trampolino intanto, leggiamoci il mending, cioè leggiamoci l'elitra, e prendiamo fare il nostro saltino, il nostro trampolino, quando lo lessero, cos'è, il 2016, quando ho eletto Trump, sì, il 2016, ci buttiamo il nostro trampolino, arancione come sempre, il Trump, va bene, rimettiamoci la nostra elitra, e andiamo di qua, dove abbiamo, ah, intanto il labirinto, il labirinto dove abbiamo messo, il nostro fantomatico, ovetto, dell'ender dragon, splendido, e poi abbiamo la super fornace della morte, questo, sembra una cosa tipo, zona industriale, però all'interno è pieno di fornace, ti permette di cuocere una quantità enorme, ma davvero, enorme di oggetti, guardate quante fornace ci sono, ora non so se riesco a farvelo vedere bene, ok, ci sono, tipo due stack di fornaci, questo riesce a cuocere, uno stack di cose, in otto secondi, sicuramente, ci sono tantissime cose anche underground, ma, cioè, bello, bello questa piccola, sinceramente, ci sono talmente tante cose in questo mondo, che faccio fatica a ricordare tutto, dovrei girare un attimino, prima giriamo un attimino quelle lì, vediamo se trovo qualcosa di nuovo, qui c'era il faro, ma l'abbiamo visto, l'isola che ho ricoperto di fiori, questo scheletro fatto di sabbia, che non mi ricordo perché l'ho fatto, forse c'è una lisca, nave dei vichinghi, e questo mi sa che è il punto massimo in cui ci siamo spinti, questo, cos'è questo posto? questo è un altare per qualcosa di importante, signori, dentro quello shulker box c'è qualcosa di importante, non mi ricordo cosa, ma c'è assolutamente qualcosa di importante, proviamo, 3, 2, 1, boom, 1 milione, 2 milioni, le date dei milioni, va fantastico, il mio primo milione di iscritti, se no, io l'ho fatto il 17 marzo 2016, e un anno e mezzo dopo, ho fatto 2 milioni, e ora siamo vicini ai 3 in realtà, eh, f***a, un milione in un anno, tanta roba, cioè per fare il primo milione, ci ho messo tipo, 5 anni, secondo milione, un anno, e poi al terzo milione, ci metterò altri 5 anni, questo è il canone di TNT, qua ci mettevi tutta la TNT attorno, ti faceva esplodere, e volavi, eh, un esperimento caruccio, devo ammetterlo, e a questo punto, signori, io direi, andiamo nel nether, anche nel nether, mi ricordo, ho fatto diverse cose, bello il portale, comunque mi piace, allora, buongiorno signor zombie, tutto bene? non mi sembra, non mi sembra educato la parte sua, guardi, io sto facendo il tour, non mi sembra educato, le ripeto, allora, grazie, ok, u, u, male, già iniziamo male, non mi rompere, per favore, cioè che cazzo, dopo 8 anni, sto rientrando, e mi rompi il cazzo, vuoi morire? ok, allora, qui, non ho la più minima idea, di dove mi porti, zero, ma, non credo mi portasse, all'end, oh, mi stanno sparando, perché non ho pezzi d'oro addosso, porcaccia, non ho oro, orca merda, saliamo indietro, senza oro è pericoloso ragazzi, allora, apriamo intanto ad andare di qua, non so se, dove si va, ah, sopra la bedrock, e anche qui, ah, qua abbiamo la farm d'oro, o era la season 4, non ricordo, vediamo, allora, sicuramente si sale, eh, questa è la farm d'oro, signori, questa è la farm d'oro, con la rotta in flash tutta che cade, non, non sono riuscito a fare un sistema di smaltimento, questa è gigante, allora, proviamo a farlo in questo modo, ok, guardate, quanta roba c'è qua, anche questo è stato un bel, un bel casino da fare, questa funziona, è semiautomatica, ti devi piazzare lì nel mezzo, e colpire uno dei pigmen, e poi loro cadono tutti, cadono, cadono e muoiono, e tu sei a posto, bene, ora rinfiliamoci nel buchetto, uh, atterraggio quasi perfetto, ho con l'impressione che sia questa la strada che ci porta, alla fortezza, quello cos'è, quello cos'è, posso andare lì, cos'è a quel posto, non me lo ricordo, allora c'è un botto di gente, i pigmen mi fanno un po' paura, devo essere sincero, però, fin quei razzi sono felice, perché posso andare dove cacchio voglio, senza morire magari, grazie, che è sta roba, ah questi sono i blocchi nuovi, che è sto posto, è tipo, anche qui un mini altarino, sembra una roba un po' mezza satanica, eh, ti devo dire, shulker box, belli sti blocchi, cosa sono, netherworld, nether brick, qualcosa, giusto, red nether bricks, fighissimi sti cosi, molto belli, molto belli, allora a questo punto io direi, uh, mi dispiace, mi dispiace non volevo, perché non sto volando, orca vacca, guarda come muoio, cerchiamo di non morire magari, dicevo, loro l'abbiamo visto, nether, ci sono sicuramente tante cose che non abbiamo visto, ma, proviamo a prendere questo minecart, scendiamo signori, scendiamo, potrebbe essere, a parte il tuner che è bellissimo, tutto vetrato, cioè, si vede tutto molto molto bello, e la mia memoria è tutta scomposta da tutti gli episodi ragazzi, è complicato, uh, no, c'è il mini cazzettino pelosino qua, come cazzo si chiama, fanculo, mi vuoi male? allora, continuamente non mi vuole male, anche se non c'ho del loro addosso, vediamo dove mi porto a sto portale, ci sta che sia la fortezza, e a questo punto direi che possiamo andare tranquillamente nella fortezza, signori, è stato bellissimo rigirare per la terza season, ma vediamo se riusciamo ad arrivare alla quarta, infiliamoci signori, e andiamo a vedere cosa c'è nel land, qui tra l'altro c'era anche il void, forse la prima season, la 3, in cui c'era il void, ok, anche qui sicuramente super ender farm, ci arrivavamo con la nostra barchettina, che va velocissima, uh, volato, ok, la rimettiamo qui pronti per ripartire, e anche qui abbiamo una signora ender farm, queste tutte in one kill, questa sono sicuro, l'abbiamo fatta con l'endermite, sono molto molto convinto di ciò, sistema di smistamento, ender chest, c'è una cosa di figo? L'ammazza scheletri, molto bello, molto bello, mi piace l'uso del vetro in questa serie, ma mi piace un po' tutto di questa, di questa serie, è stata fatta modestamente, però mi piace, e che dire signori, fantastico aver visto di nuovo la season 3, dopo qualche anno, non quanto di vedere la season 1, perché la season 1 erano passati tantissimi anni, quindi mi ha sbloccato proprio un botto, un botto di cose dentro, ma anche la season 3 devo dire, che ci ha dato le sue soddisfazioni, e quindi ora, come si dice a casa mia, a cazzo duro verso la season 4. Siamo nella quarta stagione, siamo spawnati, vicino all'albero gigante, con il nostro magazzino, barra casa, in realtà è lì in fondo, ecco, questa, questa stagione, la stagione numero 4, è la stagione in cui, non abbiamo una casa, incredibile ma vero, non abbiamo una casa in questa stagione, il nostro letto è all'interno del magazzino, e ci è sempre andato bene così, e quindi, niente, iniziamo il nostro tour, di questa quarta season, dall'albero gigante, albero gigante, che si trova su un'isola gigante, volante, molto bella, una costruzione che mi è piaciuta molto, sia costruire, che insomma, vedere ogni giorno, poi, quando si andava a creare, i contenuti, col beacon sotto, 4 beacon sotto, molto molto carino, mi piace, poi, abbiamo il drago, questa è l'evoluzione, di quello che c'era, nella seconda stagione, e questo mondo, in generale, mi piace molto, perché è, vabbè, il più recente, ovviamente, oltre alla season 5, e, come dire, c'è tanta roba carina, il problema di questo mondo, è che, come direbbe il cannavacciuolo, mentre assaggia un piatto di Masterchef, manca la salsa, che unisce tutto, sono belli alcuni elementi, però manca un elemento di unicità, non di unicità, di unione, come invece c'era, magari, nella season 3, quindi andiamo a dormire, guardiamo il magazzino, e poi capiamo un attimino, cosa possono vedere, in questa stagione numero 4, il magazzino, che in realtà, non è un magazzino, troppo, troppo ampio, non può neanche, diciamo, accomodare, chissà quale dimensioni, di, di stock, però è molto carino, perché è tutto in tema, è tutto di quarzo, ci sono delle foglioline, c'è la campana, c'è la campanella, cioè, più la campana della chiesa, che la campanella, però hai capito il mood, le fornacce, non sono in automatico, come in altre versioni, in altre stagioni, però, insomma, c'è una bella porta automatica, mettiamola così, anche se la porta automatica, una piccola pecca, è che può essere attivata, anche dagli zombie, potrebbe essere, anzi, è stato, un problemino, in alcune situazioni, col seno di poi, avrei dovuto fare, come in minecraft season 3, aggiungere, tante piccole cose, che erano solo per bellezza, non guardare solo la funzionalità, perché il mondo, il terzo mondo, è proprio, proprio bello, il modo in cui, tutto è unito, e qui, aggiungendo tantissime piccole cose, secondo me, avremmo potuto fare, un lavoro migliore, però, c'è anche da considerare, una piccola cosa, signori, questa quarta stagione, una volta iniziata, una volta arrivato a metà, della quarta stagione, ho iniziato, un attimino, a perdere la voglia, di creare contenuti, in generale, non solo su minecraft, ma poi, diciamo che il cambio, da minecraft ai vlog, come ho fatto su questo canale, c'è stato attraverso, la quarta stagione, questo si riflette, anche nel modo in cui, come vedete, appare il mondo, ed è un grandissimo indicatore, del fatto che la personalità, insomma, l'umore, si riflette, anche poi, in quello che fai, in questo caso, nel mio mondo di minecraft, abbiamo qui la stalla, la stalla che è per Ciuchino, molto caruccio, non ha avuto amici, purtroppo Ciuchino, in questa season, qui abbiamo la farm, grandissima la farm, di carote, di patate, che funziona alla grande, è piccolina, ma funziona, cioè davvero, tipo The God, come farm, farm di animali, anche questa, è stata utile, fino alla certa, con le mucche, con le pecore, addirittura, l'abbiamo dovuto spostare dietro, perché era una stanza ancora più grande, un recinto ancora più grande, perché me ne servivano un botto, insomma, per fare i libri, da mettere lì, nell'enchanting, nell'enchanting room, ecco, qui sono già molto più fresco, cioè mi ricordo molto di più le singole cose che sono andato a fare, e quindi secondo me possono andare molto più spediti con il tour. Qua c'è il piccolo ponticello stile zen, con il bambù, ci sono anche le tombe, dove sono? Eccolo qui, le tombe dei panda, panda e pandino, i piccoli pandini che ho provato a prendere dalla foresta di bambù, che purtroppo sono morti, mentre cercavano di entrare, mentre cercavo di portarli, altro che entrare nel portale del nether, poverini. Qui abbiamo anche franchino e franchina, o sbaglio? No, follettino e follettina, scusate, follettino e follettina, che sono i due miei amichetti, i due miei polletti, che purtroppo sono morti, quelli sono i loro resti, e qui c'è una statua in loro, diciamo, rimembranza, tavoletta, leggendaria, tavoletta che ho qui con me, l'ultima estate prima della pandemia, Cos'altro? 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 Beh, abbiamo qui una piccola opera di arte contemporanea, che di nuovo non è molto utile, ma guardandola dico, cacchio, è proprio carina, aggiunge, se non ci fosse, mancherebbe, ok? È quel qualcosa in più. Il portale del nether, comunque mi piace, perché mi piace il mood, un po' come la terza stagione, diventa un tutt'uno con la montagna, in questo caso sembra quasi che il nether stia uscendo, dal nether per arrivare nell'overworld, questa zona qui, abbiamo un altro castello, il phantos magorico, non ha un nome questo, questo castello non ha un nome, peccato, perché nella terza season abbiamo il castello di Fappenstein, nella seconda season, o nella prima, cacchio, già non mi ricordo più nulla, purtroppo non ha un nome questo castello, è stata una delle prime build in realtà che abbiamo fatto, che abbiamo completato, ma che abbiamo iniziato, e qui dentro non ci avevamo mai fatto nulla alla fine, capito? Questa era solo per bellezza, e sicuramente aggiunge elementi al mondo, ma non c'è, poi non c'è la, manca sempre quella salsina di cui parlavamo, ecco, riguardando la ora, facendo proprio il giro, e soprattutto arrivando dalla terza season, che era particolarmente bella, mi sembra un attimino la quarta season un po' di, c'è stato un calo, c'è stato un calo, lo dico io che l'ho fatto, quindi nel senso, basta capire un po' la situa, qui una pump di lava, molto carina, riprendeva, diciamo, il mood delle mod, anche se nell'altro pratico non serviva a nulla, questa aggiungeva davvero un po' di carattere al mondo, perché dici, che cos'è questa cosa? Sembra un po' una siringa gigante, che sta prendendo la lava, stanza degli incantesimi, questa mi piace molto dall'interno, ma dall'esterno, guarda, finché non ho costruito l'isola volante, mi piaceva, poi ho costruito l'isola volante, e guardando questa dall'alto, dicevo, ma figa, un pugno in un occhio, non c'entra nulla qua in mezzo, ma l'elemento forse più importante, non di costruzione, ma di farming, che abbiamo all'interno della quarta season, beh, intanto facciamo un piccolo preambolo, con la farm di cacao, che è qui accanto alla farm di mucca, che prima non vi ho mostrato, molto bellina, perché semplicemente appena tutto spona, uno arriva in fondo, guarda, c'è il bombilla, passando sulla pressure plate, che fa crescere tutto, clicchi il bottoncino, boom, cacao per tutti, e semplicemente poi qua, lo riattacchi, e sei a posto, nell'atto pratico, è molto comoda, potresti farla ancora più lunga in realtà, e funzionerebbe alla grande, guarda qua, e questa mi ha servita molto, per quel periodo di, non mi ricordo quando ci abbiamo messo, signori, ma secondo me, due o tre mesi, in cui ogni weekend andavo in live, tipo il sabato mattina, se non erro, e semplicemente, craftavo biscotti, per, tutta la mattinata, qui avevamo la farm di grano, automatica, con il villager, che purtroppo, non c'è più, ah, eccolo, eccolo, non lo vedevo, ho detto, chi cacchio, si è rotta la farm, abbiamo il magico inimitabile, sistema di sorting, sempre per il grano, come vedete, funziona, e qui tu venivi, prendevi il grano, prendevi il cacao, e qui dentro, signori, ci sono due milioni e 48 mila biscotti, ora, non mi ricordo se l'ho scritto da qualche parte, quanti biscotti ci sono, ma tutte le ceste, sono piene di biscotti, e ci abbiamo messo, ovviamente l'ho fatto in live, perché sennò poi la gente diceva, eh vabbè, te li sei chivati, tutto fatto in live, ci abbiamo messo davvero tantissimo, però questo si ricollega al primo mondo, in cui nella descrizione c'era scritto, iscriviti a bionni biscotti, una roba del genere, che poi si è trasformato in, se ti iscrivi ti regalo un biscotto, che poi si è trasformato in, se ti iscrivi, craft un biscotto per te, nel mio mondo di minecraftita, che insomma non è male, non è male, qui abbiamo, beh in realtà la zona delle farm, dove abbiamo fatto diverse farm, tra cui la farm di kelp, la farm di bambù, non funzionano alla grande, però le ho fatte in serie, e comunque qualcosina, riuscivano a portarci a casa, soprattutto il dread kelp, che mi serviva insomma, per fare, ehm, come si chiama, il carburante, diciamo che questo mondo, si potrebbe descrivere come, una serie di scelte sbagliate, qui abbiamo la farm di drone, che funzionava, ma non funzionava alla grande, se posso proprio dirlo, ehm, un po' lentina, ecco, e qui abbiamo, l'Underwater Dome, questo è praticamente, quasi una referenza a SpongeBob, anche se nell'autopratico, no, però è una base sottomarina, subacquea, molto, molto carina, anche questa è fatta solo per bellezza, se avesse avuto un po' più di mare vicino a casa, farla proprio accanto a casa, sarebbe stato molto bello a livello scenografico, però vabbè, anche così ci stava, poi abbiamo, il nostro, ehm, acquario, l'acquario, che ora sicuramente sarà smorto, perché l'ultimo volta che ho controllato, insomma, non c'era proprio nulla qui, fai vedere, allora, ehm, ci sono quattro salmoni, insomma, qui una volta c'erano dei, dei delfini, solo che poi sono morti, ed è per questo signori, che abbiamo l'acquedotto, gigante, lunghissimo, voleva ricordare un attimino le costruzioni di Romane, non ci siamo riusciti, aggiungerei, e abbiamo creato, questa struttura qui, che serve per portare i delfini, in cima, e poi, insomma, nell'acquario, anche se alla fine comunque si buttavano sempre di sotto e morivano, incredibile, andiamo di qui e troviamo, eh, una fama di meloni, zucche, un po' di sugar canes, forse deve andare a dormire, sai che forse sono buone idee andare a dormire? Facciamo così, entriamo nel tunnel secondario, quello con il maiale al contrario, il dinner bone, se non sbaglio si chiama così, am I wrong? Dinner bone, fantastico, andiamo a dormire, ci infiliamo un attimino nel magazzino, e dormiamo, ora torniamo la vola dall'altra parte, e, questa qui, signori, è una farm di pecore, anche qui, farm di pecore bene o mai l'abbiamo sempre avute, in tutti i mondi, e questa è una versione, se non sbaglio, automatica, se non ricordo male, qui abbiamo l'observer block, che capisce, appena, ehm, cresce l'erba, in teoria si attiva, e prova a lanciare, con le cesoie, l'azione, tramite il dispenser, e a prendere la lana, appena la, la pecora, mangia di nuovo l'erba, lo rifà, si riattiva, e in questo modo, noi otteniamo, le nostre bellissime, ceste piene di lana, avete sentito, c'era, c'era il rumore subito ora, quelli sono dei villager, farm di ferro, tre alla volta, non me la ricordavo, così efficiente questa, incredibile, farm, tra virgolette, di villager, quindi un breeder, che non funzionerà mai, nella vita ora, e semplicemente, qui, tu mandavi il minecart, a lui, ti prendi uno di questi villager, e poi, insomma, a seconda della professione, decidi se tenerlo, oppure mandarlo via, che non è male, però ora, semplicemente, basta, insomma, dargli un oggetto, dargli un tavolo di lavoro, per fargli cambiare la professione, a meno che tu non abbia già allocato un trade, quindi, è leggermente più semplice, questo aspetto del gioco, Super Mob Grinder, questo davvero, è una costruzione, che è relativamente semplice, piega solo un po' di tempo, e un po' di materiale, però, insomma, se come me usi la cobblestone, neanche così tanto materiale, perché voglio dire, forse lo sbatti di più, è avere il culo di trovare subito, appena entri nel nether, abbastanza, uh, mi è avuto un singhiozzo, di avere abbastanza magma cube, magma block, scusate, e questo per funzionare, bisogna andare fino in cima, in modo che prendi la maggior parte, della parte superiore, per l'appunto, del Mob Grinder, e cade un botto di gente, qui non fai esperienza, ma fidatevi, fate un botto, ma un botto, un botto, un botto, un botto di materiale, cioè, ecco, la prima cesta è stata aperta, era vuoto, fantastico, a questo punto direi, signori, andiamo a vedere, ehm, il reghetto da vicino, facciamo questa bella panoramica, che passiamo in mezzo alla bocca, ok, mi sono schiantato, ok, e qui dentro non c'è nulla di che, se non un campfire, per simulare un po' di fumo, ma alla fine, non riusciva neanche, aveva dovuto metterne un paio di più, e molto carino questo drago, molto complicato, il tutorial è tipo da seguire alla lettera, è un po' complicatino, tanti materiali, come potete vedere, tanti materiali diversi, sicuramente più complicato di quello, della season 2, qui un osservatorio, con delle catene fatte con, come si chiamano, le pernande sencente, grindstone, solo che, ehm, poi, nella versione successiva, hanno aggiunto le catene vere, e quindi, insomma, ho fatto un po' come Emily, in questa situazione, ecco, abbiamo l'osservatorio, come vi dicevo, anche qui, piccolo upgrade, rispetto, sempre alla seconda season, in cui avevamo l'isola, con tutte le mushrooms, e c'era il piccolo osservatorio, e quella? E quella me l'ho scordata, che cos'è? questa è molto carina, è una casettina aggiunta qui, giusto per il gusto di aggiungerla, mi verrebbe da dirvi, ammazziamo questo scheletrino, ciao, grazie, apriamo la porta, esatto, non c'è assolutamente niente dentro, però, molto carina, soprattutto quando sei là in cima, e lo vedi, dici, che figata, ora, signori, io mi tufferei nel nether, andando a cercare, in realtà, la fam di guardiani, che è stato forse il progetto più grosso, in cui ho dovuto, tipo, non mi ricordo il termine corretto, ma ho dovuto scavare tutti i blocchi presenti, in una determinata zona, ed è stato un bello sbatti, è stato un bello sbatti, ci ho fatto anche un piccolo timelapse, ed è stato impegnativo, allora, qui abbiamo una piccola basetta nel nether, sempre con il concetto di riportare l'overworld nel nether, anche se, come dire, non ci sono indicazioni per dove andare, ci sono dei pontice, ho delle robe d'oro, non ho delle robe d'oro, guarda come anche qui soffrirò, l'attacco di piglin, palese, piccola statuetta, molto caruccia, e mo, da che lato è? il mio coso dei guardiani, cacchio raga, non me lo ricordo mica, questo dove porta? beh, ho un minecart, vediamo dove ci porta questo bellissimo e simpaticissimo, aspetta, questo l'abbiamo usato per portare il panda, si, oddio, così lento fra, te lo dico, non ha neanche molto senso, piuttosto corro, piuttosto usiamo i razzi, usiamo i razzi, uhuuu, 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 ok, buttiamoci lì, speriamo di non morire, possiamo sentire la lava, sempre, quanto è lungo sto posto, dai, un botto di lava qui, non so se mi piace, cos'è sto posto, ok, ok, ah aspetta, questo è per land raga, sbaglio, oddio, no, no, avrei messo per forza le power rail, non può essere land questo, questa è la fama dei guardiani, me lo sento raga, o la fama dei guardiani o la giungla, la giungla, insomma, sento gli uccellini, sento i pappagalli però, dove è la mia fama dei guardiani, gattino, non ci credo, tu eri bloccato lì, da quanto tempo, è sempre sfigato comunque, è incredibile, non mi cadere nella lava sfigato, è il millesimo episodio, possiamo evitare, possiamo evitare, guarda, teletrasportati piuttosto, bravo, ah, lì ci sono dei blocchi, c'è una scaletta, ok, sì, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua, me lo ricordo, ops, ma sbaglio o ha paura del gatto, grande gatto, no, non ha paura di un cazzo, non ha paura di un cazzo, scappa, e vabbè, ok, c'è un altro portale, allora, stiamo attenti, guarda, io ho un gatto, se per favore evitiamo di farlo morire, anche di ansia magari, sarebbe già una bella situazione, raga, ci sta, potrebbe essere questo, portiamo il gattino con noi, vieni sfigatto, vieni, questo è sfigatto junior quarto tipo, va così la numerazione, dimmi di sì, eh sì, si vede già la parte superiore che esce fuori, ma il mio gattino, rimasto nel nether, beh, forse è meglio così, eccoci qua signori, la fam di guardiani, questo è stato un, non un lavoraccio, peggio, insomma, vediamo un attimino qui come è la situazione dei guardiani, guarda come muoiono tutti, bastardelli, morite, ecco questo è un lavoraccio, questo è proprio un lavoraccio, però, ci dà soddisfazione, se mi facesse aprire le cose, ce la facciamo? non è pieno? non quanti creeper, ma odiosissimi, se no tu non sei in acqua, e questo è quanto signori, guarda io direi, facciamo un bel bollettino, così, e torniamo nel nether, ce ne torniamo a casetta, e andiamo dritti dritti nel land, oddio no, qua c'è la farm di blades, giusto? vediamo se c'è qualcos'altro, ok, però questo, questo tunnel di ghiaccio, può significare solo una cosa, signori, in fondo qui, allora qui c'è la farm di blades, me la ricordo, esatto, e a questo punto, in fondo, in fondo, dovrei trovare, la strada, e no, però non c'è niente disegnato, bello, dov'è il mio portale, perdo sempre, incredibile, oh, oh, qua si scende, c'è della cobblestone, ah, questa è la farm di weeder, che anche qui è stato difficile, trovare le, trovare tutte le teste, ho fatto tutto sto casino, per far sì che qui spawnassero, tutte le, tutti i weeder skeleton, e qui poi, a parte i blades, che sono sempre un po' uno sbatti, le ammazzavi, e le felice, sei contento? Ti porto a giro, sfigattino, fammi cercare un attimo, ok, ok, ho visto un video, mi sono ricordato, devo tornare indietro, devo salire dove c'era il ponticello, tutte le strade portano sempre all'end, signori, in minecraft, in qualche modo, in qualche modo, però, facciamo, stavo per rischiare, facciamo così, dove sto andando, dove sto andando, ho sbagliato strada, dove sono finito, dove sono? C'è una torcia qui, orca, 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 ok, oh, oh, neanche a farlo apposta, sono esattamente dove ero nel video che ho visto, seguiamo le torce, hanno lasciato da berserci un lago di lava, e il lago di lava con dei magma block, poi mi porta alla struttura, esatto, è qua sotto, me lo ricordo, sì, non è molto indicato bene, diciamo, quello si potrebbe fare sempre meglio, sempre, però, è qui, esatto, oh, che culo che quelli dati sono arrivati subito lì, sono arrivato subito lì, è stato bello, sfigato, rip sfigato nei commenti, mi raccomando, eccoci, portalino, ok, allora, entriamo, nel land, signori, vediamo com'era in questa season 5, non c'è la base, non mi ricordo neanche se c'è qualche struttura qui sopra, potenzialmente no, perlomeno, non me la ricordo, c'è forse una mini farm, vabbè, c'è la scaletta, ora proviamo, oddio, pericolo, pericolo, facciamo un paio di giri, ok, cerchiamo di atterrare bene, non mi ricordo questa di preciso come l'ho fatta, potrebbe essere, oddio, ma sono tutti qua vicino? Ah, questa è con l'endermite, guarda come tutti provano ad andare lì, allora, entriamo da qua dentro, salve, salve, quanti siete, amici miei, morite tutti per favore, non c'è una vita ridotta, sono infiniti, ok, confermo, signori, sono infiniti, non finiscono più, cioè, se hai la spada, basta, che casino, se hai la spada giusta, questa è la far migliore, signori, sono tantissimi, ho appena fatto un botto di livelli, a parte che non finisci più di prenderli, credibile, oh merda, oh merda, ce l'ha con me, quanti ce l'hanno con me, no, 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 vola, 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 cazzo ho finito i razzi, che culo che c'è con sta roba pronta, e mo, non ho più razzi, insomma mi infilavo dritto nel, ora a testa bassa signori, a testa bassissima, andiamo dritti nel portale, e andiamo direttamente nella season 5, l'ultima season attiva sul mio canale, in inglese, su Re Was Taken, 3, 2, 1, anzi, 3, 2, 1, let's go, ultimo, ultimo ma non meno importante, anzi, forse il più importante, perché è bellissimo andare indietro nel tempo, a guardare quello che è stato, tutto ciò che è stato negli ultimi, negli ultimi tanti anni, ma il futuro è il presente, soprattutto, è la cosa più importante, quindi benvenuti nella quinta season, mi fa davvero davvero strano, parlare in italiano in questo mondo, perché questo è il mondo che ho portato, sul mio nuovo canale in inglese, devo dire che, sì, è una sensazione un po' strana, fare in italiano qui, per questo tour ci metteremo davvero poco, perché è recentissimo questo mondo, ha qualche mese neanche, però sono abbastanza contento di come sta venendo fuori, sicuramente i vostri consigli nei commenti, mi aiutano tantissimo, a volte faccio delle cappellate, tipo, quello svanirà, tranquilli, questa diventerà un'altra isola volante, e questo diventerà tipo un beacon, o una cascata dell'isola volante, perché quello è un mob spawner, è brutto, lo so, lo so, datemi tempo. Allora, parliamo della nostra base, la base è questa qui, è molto carina, questo è tipo un mezzo template o tutorial, che si trova online, ma, molto, molto caruccio, qui abbiamo un'opera d'arte, che mi ha regalato, Ian Wormann, che è un ragazzo, è un artista, che lavora con i Lego, che lavora anche con i Lego, che ho conosciuto a Venezia, e mi ha regalato un'opera d'arte, da mettere nel mio mondo di Minecraft, ora, come vedete, sono storti i bricks, però, se non me ci sta, perché fa proprio vedere, cioè, sbuca di più, mettiamola così, e sempre sull'ordine delle opere d'arte, qua vedete, questo è il mio stato primo magazzino, ho messo anche dei meme, all'interno, alcuni strafalcioni, che ho detto, con le mie prime avventure in inglese, però devo dire, che c'è stato un miglioramento netto, già solo nei primi tre mesi, di video, ho messo altre opere d'arte a giro, tipo questa, l'impero delle luci, se non ricordo male, fantastica, nel magazzino avete visto, c'era De Chirico, dormiamo, e andiamo a vedere un attimino, cosa c'è, in questo mondo, al momento, li ho provato, in una maniera ignobile, a riprodurre, diciamo, le sembianze, del nuovo concetto di esplosione, c'è solo un piccolo piccolo problemino, c'è un problema di risoluzione, perché la stampa che puoi fare, su una statua di legno, non puoi farla in Minecraft, e quindi è venuta poi, una roba un po' strana, che devo abbellire, mettendo attorno tutte delle belle statuette, rendendo questa una piazza, con tante casette attorno, insomma, la abbelliamo, mettendo altre cose attorno, quindi distogliendo l'attenzione, che è una strategia che funziona tantissimo, ragazzi, fidatevi, in tutto nella vita, distogliere l'attenzione aiuta, qui abbiamo un bellissimo, tipo, mini mausoleo, per gli enchanting table, per le enchanting table, i libri, qui abbiamo una farm di kelp, automatica, con l'acqua, che insomma, smuove il tutto, automaticamente, viene anche cotto, il tutto, quindi ti trovi direttamente, con il dried kelp, con un sistema di autotrasferimento, un item elevator, qui abbiamo un bellissimo burrone, che è stato fatto, come vi dicevo, solo per bellezza, è molto bello, perché da un botto di colore, quando passi di qui, ancora non c'è nulla di funzionale, però è bello vedere tutte queste foglie, che scendono, i minecart, le rotaie, molto, molto carino, e, come filosofia del mondo, otteneremo questa, quindi potenzialmente, arriverò a un punto, in cui questo mondo, mi auguro, sarà il più bello, di quelli che ho fatto finora, qui abbiamo una piccola torre del nether, ho provato a ricreare il concetto, che ho già utilizzato, sia nella terza, che nella quarta stagione, in cui il nether, non nella terza, scusate, sì, nella terza e nella quarta stagione, in cui il nether, si prende un attimino, si fa spazio all'interno dell'overworld, e in questo caso, c'è anche una mini fortezzina, una torre, una torre in cui, vabbè, si può salire in cima, non c'è molto al momento, però come vedete, è fatta di tantissimi blocchi diversi, e di notte soprattutto, è molto carina, anche perché insomma, utilizziamo le lanterne di colore diverso, c'è il fuoco blu, insomma, è caruccia, è caruccia, poi abbiamo, vabbè, il monumento più importante di tutto il mondo, la stalla di Franchino, Franchino che è tipo il main character, abbiamo anche Sfigatto, è tornato, signori, è lui o non è lui? Non è lui, perché il colore non è lo stesso, però questo è Sfigatto Junior, sedicesimo ormai, e grande Sfigattino, Franchino è il main character, è lui il vero protagonista di questa serie, io vi faccio la spalla, è Franchino il boss, e come vedete qui ho messo alcuni meme, che mi avete messo voi nel subreddit, su Franchino, gli altri mob, quando per sbaglio ho colpito Franchino, mi è venuto un tipo un flashback di guerra, come se stessi per ammazzarlo, tipo Sfigatto, poverino, e questo è il magazzino, abbiamo già visto, voglio farvi vedere la farm di ferro, che a questo punto vi direi, non è efficiente come quella della quarta stagione, perché in quella della quarta stagione, figa, ne sono sponati tre alla volta, qui al massimo ne spona uno alla volta, perché non ci sono abbastanza villager evidentemente, elevator d'acqua, arriviamo in cima, e qui abbiamo una bella struttura, che non è stata semplicissima, cioè da setupare è stata relativamente semplice, fare il debugging come si deve, quindi impedire, ecco, come non detto, impedire questa cosa qui, vi stavo per dire che era stato complicato, ma a quanto pare non ci sono neanche riuscito, in teoria questo golem qui non dovrebbe bloccarsi, perché si è bloccato? Scusa, si è messo sopra quel muro lì, per nonare che sti muri è un po' un casino da levarli, cioè per levare quello è un po' un casino, fatto sta che comunque funziona, funziona, funziona egreggiamente, ho sempre ferro a disposizione, in questo caso uno spettacolo da poco, c'ho già quasi un altro stack, quindi alla grande, e non capita così spesso che i golem si blocchino, quindi funziona, mettiamola così, funziona, land qui ad esempio non l'abbiamo ancora trovato, abbiamo un paio di farm, una farm di polli, che è molto comoda per il cibo, perché quando funziona, te le dà già cotti, e qui ci sono tutti i polletti, insomma puoi farli, puoi spammarli, puoi farmarne, così ti escono sempre più uova, qui una farm di mucche, anche qui comodo, anche se non viene direttamente cotta la carne, qui vedete siamo già un po' più lentini, questa rotaia non va da nessuna parte, se non al villaggio, l'ho usata per portare villager dal villaggio, che è tipo l'inlustrananza, non so se si vede, no c'è la nebbia, l'ho usata per prendere villager, da usare con la farm di ferro, è stato molto comodo avere un villaggio così vicino, ve lo devo dire, e sto pensando se c'è qualcuno usato, nel nether in realtà non è che abbia fatto molto, ho trovato una fortezza, ma oltre a quello, ci vado solo per prendere i materiali di cui ho bisogno per ora, mettiamola così, qui c'è un ponte, che stupiamente ora non l'ho preso, fatto di campfire spenti, è stato molto costoso fare questo ponte, ve lo posso dire, e mi porta, non in cima, ma mi porta vicino all'ingresso, che mi porta a sua volta in cima al mob grinder, che sto utilizzando per accogliere esperienza, per farmare libri, insomma enchantment e cose di questo tipo, qui abbiamo una farm, la prima farm di grano, che ho realizzato, è molto carina, perché è circolare, quindi non è come nessun altro tipo di farm, che ho fatto finora, non è enorme, non sembra enorme, però in realtà c'è tanto grano qua dentro, quando lo raccogli tutto, diciamo che dà soddisfazioni, come dicevo, questo è, diciamo temporaneo, perché c'era, c'era solo, uno spazio, che era questo fatto di, due, per due, blocchi altissimi, di foglie, e sembrava un po' scarno, quindi per il momento, ci ho messo questa cascata, è brutta, non è che è brutta, è scompensata, rispetto alla parte finale, in cima, è quello il problema vero, quindi ora, dopo un viaggio lunghissimo, incredibile quanto è lungo questo viaggio, siamo qui in cima, e abbiamo il mob grinder, tutto di legno, molto carino, c'è un po' di ossidiana, per evitare che, quando esplodono i creeper, perché ogni tanto esplodono, facciano danni, un'altra postazione, per gli enchantment, come dicevo, un lettino per sicurezza, e, questo è quanto, in realtà, stavo ragionando, se c'è qualcos'altro da mostrarvi, però, monumenti, insomma, non mi sembra il caso, di andare a vedere i monumenti, cioè, sono quelli classici di minecraft, in realtà, se non muoio, colpendo il ponte, boom, l'ultima cosa che ho fatto, è stata realizzare, una farm di pesca, che, a mia insaputa, non si può utilizzare, nell'ultima versione di minecraft, bisogna fare per forza, con la 5x5x5, non lo sapevo, e allora, mi sono dato, al creare una farm di pesca, che funziona anche da fk, solo che, con il fattore del 555, che non sapevo, non trovi treasures, e quindi, io l'avevo fatta, per trovare il mending, quando il mending, in realtà, con questa farm di pesca, non si può trovare, ho creato, ho creato questa piccola fishinat, entri dentro, e ti ritrovi la farm, è molto semplice, funziona da dio, solo che, non trova i tesori, quindi va bene, per trovare il pesce, alla grande, nel senso, è una fonte di cibo, molto comoda, ma per il resto, insomma, non ce n'è, e io direi, che possiamo salire, sulla nostra torre, per dirvi, che, beh, per questa quinta season, non è tutto, è solo l'inizio, e quindi, se avete voglia, di parlare inglese, insieme a me, oppure, se guardate già, video in inglese, li capite, o se volete solo provare, o volete guardare i video, con i sottotitoli, perché, probabilmente, le sottotitoli d'italiano, in quasi tutti i video, beh, ci vediamo su, Suri Was Taken, con l'episodio 1001, mettiamola così, e non so come fare l'altro, ora, non c'è, non c'è il portale, che mi infilo, nel nether, ma non c'è nulla nel nether, beh, facciamo, che andiamo, andiamo a salutare Franchino, quanto è bello Franchino, ciao Franchino, che viaggio signori, che viaggio, un'ora e mezza, per racchiudere mille episodi di Minecraft, nove, dieci anni, di esperienza in questo gioco, tantissime avventure, tantissime risate, tantissime storie raccontate, potrebbe risultare un po' scontato, ma fidatevi che non lo è mai, volevo ringraziarvi per tutto il supporto, che mi avete dato in questi, in tutti questi anni, è incredibile per me pensare, che dopo talmente tanto tempo, ci sono ancora tantissime persone, che davvero si interessano a ciò che ho da dire, grazie mille davvero, l'avventura continua, continua su questo canale, con i vlog, con l'intrattenimento, e continua su Suri Was Taken, con il gaming, in inglese, vi lascio il link in descrizione, anche per quel canale, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni, con dei nuovi contenuti, ciao a Trudolo tutti!